Davide Pecorelli, l'imprenditore, 45enne della Valtiberina, è vivo e sta bene. Dopo oltre otto mesi è stato infatti ritrovato. Si pensava fosse morto o assassinato da qualcuno in Albania ed invece è stato ritrovato nafrogo a largo di Livorno, a bordo di un gommone vicino a un'isola dalla parte opposta del Mediterraneo, lontano, centinaia di chilometri dal posto della sua sparizione. A riportare la notizia, il quotidiano La Nazione. Pecorelli, padre di quattro figli, ex arbitro originario di Lama di San Giustino Umbro, ma con legami a Sansepolcro e nel resto della provincia di Arezzo, era ufficialmente scomparso da puche in Albania, dove si era recato per un viaggio di lavoro lo scorso gennaio. Le sue tracce si fermavano dentro una scoda presa noleggio e ritrovata bruciata assieme a qualche effetto personale ed alcuni frammenti ossi che non vennero di fatto mai attribuiti a lui. Adesso resta da chiarire il perché della sua sparizione dell'auto bruciata e a chi appartengano quei resti ritrovati nell'auto, ma soprattutto il perché di questa messa in scena macabra. L'uomo ha già annunciato che una volta rientrato in Umbria si presenterà ai magistrati per fornire la sua versione, avendo già affermato di essere stato in vacanza tutto questo tempo. Grazie.